Ciao a tutti, bentornati ad In The Paint, speciale Gemi Napoli, speciale basket napoletano. Partiamo dalla prima vittoria in precampionato ottenuta dagli azzurri sul parquet dell'Epicasa Brindisi, una partita che finisce 88-89 dopo ben due overtime, una partita decisa dalla tripla sulla sirena di colui che dovrebbe essere il decimo della rotazione, quel Niccolò Dell'Osto che è arrivato per crescere a Napoli. Si è fatto trovare pronto e si spera che succeda sempre più spesso, ovviamente per le sorti del Napoli Basket. Una partita che Napoli gioca un po' a due facce, domina nel primo tempo, spinta soprattutto da Howard a 28 punti per lui ed Elijah Stewart a 26. Domina nonostante un Giacori Williams in tono minore, nonostante l'assenza di Zanotti tenuto a riposo precauzionale. Dopodiché subisce il ritorno prepotente dell'Epicasa che si porta anche davanti finché poi gli azzurri non riescono a forzare il primo overtime. Primo overtime che si chiude poi sul 72 pari, dopodiché nel secondo overtime Napoli rischia di buttarla nuovamente via la partita, va sotto ed è sotto nell'ultima azione 88-86 finché la palla non arriva nel mezzo angolo e Niccolò Dell'Osto regala la prima gioia anche a coach Buscaglia, da un europeo dove la sua Olanda si era disimpegnata anche molto bene ma che aveva pagato, ma in cui aveva pagato la scarsa qualità rispetto alle contendenti al quarto posto del girone che avrebbe garantito il passaggio agli ottavoli. Una Napoli che continua a crescere, che poco a poco, visto anche il ritardo nell'arrivo dei giocatori, ammesso dallo stesso Buscaglia, deve inserire con calma una cosa dopo l'altra, un gioco dopo l'altro, un'idea tattica dopo l'altra. Una Napoli che però adesso torna da Brindisi rinfrancata, un secondo posto per la classifica Ussa, una partita giocata comunque bene anche se persa contro il Mornar Bar, una squadra che però sta trovando poco a poco una sua quadratura. Una quadratura che le potrebbe permettere veramente di essere quasi tranquilla riguardo al discorso salvezza, ma anche di poter sperare in un piccolo posto al sole, in un settimo, ottavo posto dipenderà dal livello dei vari micinò, già Corey Williams, dello stesso Emmett Williams che si è presentato con otto punti a referto ed una partita tutto sommato buona, discreta, da un Johnson che deve cercare di limitare i propri sbalzi di rendimento, un Mishinò che deve avere le chiavi della squadra e un Howard che va sfruttato come è stato sfruttato ieri, cioè come giocatore capace di sparigliare le carte. Suo l'assist decisivo per Dell'Osto, suo anche, come si può dire, il ruolo di principale realizzatore, uscendo tra l'altro dalla panchina. Ottima notizia se poi la teniamo presente con le prestazioni sempre solide dei vari uglietti e zerini. Parliamo però di una festa. Napoli in festa, la Curva Est in festa ieri con l'occasione dell'inizio della stagione che è pronta a partire, ricordiamo che la prima giornata verrà disputata il 2 ottobre avversaria alla Virtus Bologna al Palabarbuto, i gruppi organizzati della Curva Est si sono riuniti per una festa in cui si è giocato tanto a palacanestro, dove è stato presentato il libro Quando il basket era leggenda, è arrivato alla seconda ristampa, presente il giornalista del mattino Stefano Presti Simone, uno dei due autori insieme a Manfredo Fucile, si è poi gridiato tutti insieme e c'è stata tanta aggregazione. Un evento che andrà ripetuto anno dopo anno perché è un'occasione per stare tutti insieme, al netto che si sia Ultras o non Ultras, un modo di fare aggregazione, un modo di creare anche un ambiente di festa per ogni partita in casa. Parlando di eventi, domani alle ore 11 al Palabarbuto ci sarà la conferenza stampa di presentazione dell'Old Star Game. Attenzione perché sarà l'occasione per rivelare il nome dello special guest. Vi abbiamo detto che con tutta probabilità era l'Ingrir, vedremo domani se sarà veramente lui l'ospite speciale che tra l'altro saluterà la fine della carriera di Mimmo Morena, lo storico capitano della Carpisa della Coppa Italia, lo storico capitano di tutti gli anni in Serie A disputati da Napoli, tranne l'ultimo, quello che poi portò al fallimento della squadra di Mario Maione. Napoli che quindi abbraccerà un giocatore storico che ha voluto terminare con questa canotta, anche se in un'occasione amichevole di beneficenza, una carriera che è stata lunghissima. Mimmo Morena rimarrà, come sempre, nel cuore di tutti quelli che amano il basket, un pivot moderno antelitteram perché capace di avere la doppia dimensione, un giocatore che anche se faceva pochi minuti in campo, era un punto di riferimento per tutti i compagni, tanto che in quei pochi minuti le palle pesanti arrivavano da noi. Sarà quindi l'occasione per salutare una vera e propria leggenda. Vi avevamo detto che era stato presentato un libro chiamato Quando il basket era leggenda. Ecco, una di quelle leggende che con il tempo avranno ancora più aura epica, aura di una storia da raccontare ai nipoti, lascia il basket giocato. Quindi, ovviamente, l'invito è a presenziare all'evento, sarà veramente una festa bellissima. Il ricavato dei biglietti, 10 euro e prezzo unico, che potete acquistare su Viva Ticket, sarà devoluto interamente in beneficenza. Vi ringraziamo di averci seguito, vi diamo appuntamento al prossimo speciale Geli Napoli, sempre qui, sempre, sul Parking The Paint. Ciao a tutti. Ciao a tutti.